Ciao ragazzi e benvenuti su questo video Oggi video esperimento sociale con la mia amica Ericottero Pece e carne Andremo ad analizzare tutte le ricerche che sono state fatte su google Le parole più ricercate se voi scrivete Giappone, i giapponesi e le giapponesi Buona visione, lasciate un mi piace e partiamo subito Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi sono con Ericottero Un video di cultura giapponese Questo è un video importante Non è sponsorizzato da google Ma abbiamo cercato le parole che gli italiani cercano di più Su google quando scrivono le parole come Giappone, le giapponesi, i giapponesi Lo fa spesso fanpage questo Si ho visto qualcosa I giapponesi Si riesce a vedere Si ma questo devo pensare dal punto di vista italiani Sono giapponesi No ma non è che devi indovinare, leggi e poi commenti Ah ok, leggo Si Erico intratteni E, e, e Ma è un po' di latte I giapponesi Mangiano sushi? Mangiano sushi Certo che mangiamo però non tutti i giorni Tipo una volta ogni due mesi Così poco Io si Io una volta ogni due settimane Io mangio di più pizza Oppure quando fai il Kikoshi Quando ti sposti in un nuovo a casa magari ti portano il sushi a mangiare per festeggiare Sono ricchi Dipende Beh però il salario medio è più alto dell'italiano Però anche le spese Uno dei motivi per cui non c'è crescita demografica in Giappone è proprio perché Alcuni giapponesi non hanno abbastanza soldi per mantenere una famiglia Perché se la tua maglia non lavora Tu c'hai un figlio comunque è molto costoso Si Costoso? Costoso! Sai ultimamente mi fa sempre questa imitazione di Heericotter I giapponesi cosa mangiano? Un po' di tutto Anche piatti italiani, indiani, pesce, carne I giapponesi e la pulizia Questo non capisco, i giapponesi e la pulizia E sai forse è perché il Giappone comunque ha questa immagine di paese molto pulito Pulito? Il pubblico si ma in casa no Eh no Le case sono sporche Davvero E sono tutte disordinate di solito Davvero? Non hai mai visto casa di un giapponese tutto disordinato? I miei amici hanno casa molto in ordine Bene quindi la casa di Eriko è un cesso I giapponesi sono felici Eriko tu sei felice? Io si Io si ma spesso sono giapponesi felici perché soffrono Lavorano tanto Allora lui dice che io mi sto impegnando Allora sono felice Manso, sono soddisfatti Sono soddisfatti Aspetta una cosa da dire qua Portiamo un po' di cultura Che comunque Sai parole come l'amore La libertà e così Sono arrivate tutte dall'occidente in Giappone Nell'epoca Meiji E prima per esempio c'era una parola riferiva all'ai Quindi all'amore però è ritenuta come un dovere Mentre gli italiani lo vedono più Gli occidentali in generale come un diritto no? Anche questa mentalità comunque del dovere anche l'amore Che in Giappone per poter apprezzare le cose belle Devi lavorare sodo Quindi diciamo che sono felici però è una felicità dovuta al duro lavoro Molto spesso A parte Eriko che invece non fa mai niente Io sono figa I giapponesi sono strani Sì anche io sono strana Davvero per esempio? Non sono quelli che non so Non so Cioè Puliti? Fanno l'offero tutti i giorni Sì fanno il bagno tutti i giorni i giapponesi Quindi direi sì I giapponesi sono intelligenti Beh Dipende Dipende Buddisti Non tutti ma la maggior parte dei giapponesi sì O buddisti o sintoisti Sintoismo è la religione autopsona del Giappone I giapponesi sono belli Sono belli forse per voi ma per i giapponesi non siamo belli No? Io direi gli occidentali sono belli Gli asiatici no Ah no? No Eriko è bella Arigato Anche a caso è bella Mmm Giappone che Ore sono Giappone che Cherry Blossom Sakura Cherry Blossom Konami ikitai Che stagione è? Più o meno uguale no? Votra stagioni Uguale a noi Giappone che è meglio da andare Secondo me aprile o settembre o ottobre Sì Se andate in primavera potete vedere il sakura se avete la fortuna di beccare quella settimana E se andate l'autunno potete vedere il? Eto Koyo Brava Ok 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 E dovete sapere che Eriko del gioco non sa niente Andiamo avanti Hai Giappone che delusione Che meraviglia Cosa vedere? Cosa vedere? Tempoli Castelli Cantuari Shopping Giappone non ha esercito Vero Da quando Dopo la seconda guerra mondiale E l'occupazione americana Anno? Quando è che è iniziata l'occupazione americana in Giappone? Troppo 45 Mi è piaciuto 45 E finita nel? Shiran Ok In Giappone non esistono le vie Funzionano in modo diverso E' molto complicato Io preferisco le vie In Italia è più facile Trovare un indirizzo con numero Cioè basta trovare via e il numero è semplice E' vero In Giappone è tipo Nan chome Sono tutta quadrati tipo E' tipo c'è un quadrato più grande Poi quello più piccolo Si infatti In Giappone cosa non fare? Beh ragazzi ho fatto il video Se volete vedervi il video andate qui In Giappone non si fuma Non si fuma per strada Per strada Però ci sono ancora dei locali che ti permettono di fumare Giappone cartina Cos'è cartina? Ehm mappa Ok Giappone orario Ok Giappone abitanti Quanti? Ijioku Non vengono 130 milioni Fa parte della Nato? Fa parte? No Parte dell'Europa Magari si forse adesso No no Giappone fa rima con Rima te nani Mela Rima te nani Gioco Mocco Mice uguale Giappone con un mattone In Giappone è In Europa No Giappone è costoso No Abbastanza Più grande dell'Italia Si Oriente Occidente Oriente Estremo Oriente No Da vedere Si Una repubblica Cos'è Eriko? E' una repubblica al Giappone? Non No Giappone 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 non Reggono l'alcol E' vero? Si Dicono mai di no Ah anche Non dicono ti amo Non pronunciano la L Non pronunciano la L Quelli sono i cinesi No scherzi Non sudano Oh io non sudo Neanche io sudo Non pronunciano la R Non hanno la barba Oh Fuketsu Fuketsu non è in mezzo Spesso il lavoro non ti permette di Si E comunque non cresce la barbaco Ma a noi cresce in modo un po' diverso Secondo me Non sanno inglese Non bevono latte E io bevo latte E adesso facciamo le ragazze giapponesi Scopriamo che cosa succede Le donne giapponesi Non Invecchiano Non è vero Invecchiano Però di colpo Sanju Gostaribadekirade E adesso Sanju Perché le giapponesi Non hanno la cellulite Si 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 Ma tu non hai la cellulite Le giapponesi Non hanno Si Si Dove I giapponesi mangiano Sushi Si Si Con le bacchette Si Il pane Si Si Il sushi Si Gli insetti Alcune zone Si Il formaggio Solo sushi Solo sushi no? A terra Le cilie Le ciliegie Si Ciliegie Le ragazze giapponesi Karatele Antipatiche Forti Le giapponesi sono Facili Si Si Secondo me si Facciamo adesso quello su ericottero Che è ericottero? Vabbè vediamo cosa cercano la gente Eta Ma va? Lo sapevo Youtube Si ha un canale Onigiri Perché ha fatto la ricetta degli onigiri Instagram E anche senza Ram L'ha fatto anche il ram Sushi Solo Tavemono Dove vive Dove vive Non te lo dico Non te lo dico Padova Vuoi fare anche il mio? Già che ci sei Dove è che è il mio? Il mio potere Cosa è? A few minutes later Sebastiano Serafini In Giappone Instagram Fire Oh E' la canzone Si Miracle Oh Altra canzone Twitter Twitter? Ah si Wife Wife? E che Wife? Non lo so A caso Eh si Ti sei divertita? Si la verità è che stiamo per brandere il treno adesso Perchè stiamo per andare a Bergamo Quindi speriamo che questo video vi abbia entusiasmati Che vi siate divertiti Divertiti Che dire Noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando passate anche dal canale di Enrico per vedere il video che uscirà sul suo canale questa domenica Un abbraccio Un abbraccio E alla prossima Ciao Ciao Spero che questo video vi abbia fatto sorridere Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e se non l'avete già fatto lasciate un mi piace Noi ci vediamo alla prossima settimana Adesso pubblicherò Cercherò almeno di pubblicare video due volte a settimana Il martedì e il venerdì All'1.45 Quindi segnatevi questi orari E cercherò di applaudare molto spesso Tra l'altro anche il mio amico a caso si è fatto un canale Se non lo seguite andatevi ad iscrivere anche sul suo canale Ve lo lascio qui Noi ci vediamo al prossimo video Un salutone da seba Ciao Ciao